Who's the master in game? He's video game Darling, who has the coolest name? He's video game Dunque 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 ragazzi Dove siamo finiti? Oh, c'è un cervo Simpatico cervo, simpatico cervo Non ti uccido perché sei già morto Vuota Che schifo, che schifezza è Vermi Sì, quelli da andare a pescare Un'età antica Questi sono dei disegni Sembra il disegno di un bambino Ok Una foto dietro 14 giugno, marito e moglie in vacanza Il marito è stato un successo Lui è il numero 12 Sfortunatamente la moglie non andava bene Quindi ce ne siamo sbarazzati 7 luglio, tre studentesse tutte marcite Luca sei un idiota 13 agosto, un senza tetto Mutato in tre giorni Lui è il numero 13 Ok Cos'è sta roba? Dove sono? Ma che... Che schifo è? Cos'è? E va con il cane Oh oh Deve essere mutato questo Mori Mori Aiuto E se non muore E' morto? E' morto, è morto Mamma mia Che roba Di essere quello che han detto che è mutato Si può andare di lì Oppure di qua Qua è chiusa sta porta con gli scorpioni Quindi andiamo di qua Lì si scende Caracurnico I bastardi mi stanno cercando Ma forse questa notte Può aiutarti a fuggire Per andare via di qui Devi trovare sculture A forma di testa di cane Ne ho viste una Nella stanza delle dissezioni Nel seminterrato Valla a prendere E la chiave per fuggire da questo posto Ah c'è qualcosa che non va in me Deve essere quella roba Che mi hanno fatto mangiare Se proprio devo morire Lo farò lottando Sto per andare a prendere Quel fucile che ho visto Nell'area ricreativa Così li farò pentire Di quello che mi hanno fatto Scappa da questo posto Ti amo Courtney Tu per sempre Travis Allora andiamo nel seminterrato Direi Tataratatatatà Amici È stroppo forte Per i denti Aiuto aiuto Guarda che schifezzi Si saranno Senteranno fuori Degli altri mostri Aspetta che mette la pistola Secondo me Ne esci fuori un altro No? No Pensavo io Cavallo Da dove è saltato fuori? Ma è lì dietro? Perché non spara? Mi spara Non ha munizio Spara Oh no Mi sparava prima Dunque c'è una porta qua Un altro Ok Io miro la testa Che è sempre la cosa più giusta Secondo me Qualcosa qua? No Qui Luca Si ho preso quel tizio Che continuava a scappare L'ho rinchiuso Nell'inceneritore In fondo a sinistra Così non ci sfuggirà più Tiralo fuori Quando è il momento Sai come aprire l'inceneritore No? Ricorda 3 A È un'impronta Della mano Fai come ti pare Con la ragazza Va bene Eh no Scusa No Shown Ma Ok Il pollice Ado Prima festa Ed è chiuso Ecco L'abbiamo fatto. Aiuto, aiuto! È morto? Sì, è morto, è morto. Ci sono abbastanza da per questo oggetto. Allora, aspetta. Lì... ... ... ... ... ... ... ... ... mappare trattamento munizione pistola mi sono tornato in vita non mi sto facciando 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 ma si è preso la testa di cane infatti non ce l'ho non mi sto facciando non mi sto facciando non mi sto facciando poveraccio poveraccio si vediamo se me la prende ecco ti pareva insomma ragazzi mi fregano sempre questa testa di cane comunque la prossima volta faremo uno scontro all'ultimo sangue per tenerci questa testa di cane perché come faccio senza testa di cane insomma ciao a tutti da sviluppo ciao a tutti da sviluppo ciao a tutti da sviluppo ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti